Ok ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo episodio del Saturday Night Come al solito siamo in compagnia di Fra Ciao E di Aizen Bella La scorsa volta vi avevamo chiesto di consigliarci dei pokemon di tipo voleno Ed ecco qua che appunto oggi vi portiamo il monotag del suddetto tipo Ragazzi come al solito noi vi invitiamo a consigliarci più pokemon possibili su ogni canale Perché altrimenti poi quando andiamo a scegliere i pokemon ci sono sempre dei problemi sulla scelta Perché ad esempio se ce ne consigliate due è ovvio che noi dobbiamo scegliere per forza quei due Anche se sono discutibili Ecco esatto anche se sono discutibili Quindi vi invitiamo a consigliarci più pokemon possibili Commentate su tutti i canali pokemon diversi Questi avete più possibilità di essere scelte e più possibilità che venga fuori un team di scelte Soprattutto commentate sempre di più perché appunto come ha detto Dark Altrimenti ci troviamo spiazzati sulla scelta Certo non è che mi ha detto commentate due ne facete due ne facete due apposta E' italiano arcaico Tu scherzi veramente si usava nell'antichità Eh vabbè lo antico io allora Ok vai Va bene va bene Allora i primi due pokemon li ho scelti io Toxicroc e Spite Ragazzi mi avete detto usate Spite Il Gengar che sto utilizzando in Naslok Ed eccolo qua ragazzi abbiamo Spite e Toxicroc Toxicroc con il set Sword Dance E poi Gunshot, Drain Punch e Sucker Punch Che fa male un po' a tutti diciamo Gunshot una mossa che raggiunge i 120 di base power Più la stab veramente una mossa assurda Poi vabbè c'ha Spite con lo stesso set della scorsa volta Taunt, Shadow Ball, Sludge Wave e Focus Blast che non delude mai E poi abbiamo i pokemon di Fra Dunque io ho scelto Venusaur Quella Venusaurite così avremo bellissimo Mega Venusaur Ho scelto una versione Burk Attaccante speciale Con Synthesis, Giga Drain, Sludge Bomb E The Power Fire per gli Steel Cosa molto importante per un mono poison E poi infine Drapion Perché comunque sia Un pokemon molto utile Nel tipo di veleno Perché ha un enorme coverage E grazie a Sword Dance E Knock Off può fare un macello di danni Con Earthquake può liberarci dai Fire O anche altri pokemon che sono deboli appunto a Ground E infine poi Songeb come Stub E niente Sono rimasti i pokemon di Aizen Esatto Dunque Ho scelto Wheezing E Tentacruel Dunque Non c'è un motivo particolare Nel senso che mi piace stallare Però Wheezing E Tentacruel Fanno una bella coppia Anche perché si coprono molto bene a vicenda Wheezing ha Levitate Per Per il ground Che in questo team Dovrebbero romperci parecchio A Will O'Wisp Per indebolire gli attaccanti speciali Quindi troppargli l'attacco con il Burn Abbiamo Fire Blast Giusto per non lasciare da solo Venusaur Contro ad esempio uno Steel tipo Ferrotor Tanto per fare qualche nome Che potrebbe rompere Visto che è immune alle mosse tipo veleno Abbiamo Sludge Bomb Per colpire tutto quanto Per avvelenare Svrattutto i Faerie Che con questo team non hanno scampo Abbiamo Painting Split Per un Upsed Recovery Per cercare di recuperare più PS possibili In caso Wheezing Sia in pericolo Poi abbiamo un nostro Tentacruel Con Rapid Spin Non abbiamo preso Crobat con The Fog Anche perché Comunque A parte che sennò sarebbero troppo Stedra Quick Ma comunque Tentacruel Spinna E gli lascia a loro le Toxic Spikes Che sono essenziali Per fargli prendere un casino di danni Poi abbiamo Scud Per tentare un altro Board Random E Prodeck per scaudare qualsiasi mossa E per riprenderci 6% in un tuno Più 6 in un altro tuno Facendo Prodeck di Dex Vudge Esatto Esatto Ok Quindi direi che possiamo iniziare Inizio io a giocare Va bene Va bene Bene Adesso tocca a me Cerchiamo subito una lotta E vediamo Vediamo che cosa ci esce Ah non lo so Un Monofighting Dovremmo essere in vantaggio Che ci romperà un po' Eh si Terracchio che spam Mare Tentacruel Vabbè io inizio con Tentacruel Così posso anche Heracross Raga io pure di Heracross Brucilo Dai che il primo colpo È sempre quello buono Non bruci Ma il problema è che c'è l'abilità speciale Guts Se non è la mega No sarà mega Sicuro Forse mega potrebbe essere pure mega No non è mega È me diciamo la mega Ah ok Vabbè fai Prodeck di nuovo Che Che Copa vostra Piotio E poi switch in Fai protect e poi switch in Per me è scarf ragazzi Sì sarà scarf Sicuro Eh vai wheezing No no meglio che anger Sì infatti voglio mettere gang Sì è scarf ragazzi ma noi abbiamo lo scarf quindi dobbiamo stare attenti a te necce Fai sciato bollo Fai sciato bollo non è mai inefficace No 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 Io volevo provare qualcosa di luce Ah no è subito che inefficace Fai sciato bollo Eh sciato bollo Che voglio avere in altro Vabbè Oh vittate fai sciato bollo Oh quanto inferno è Mamma quando si è preso perché si f*** Ma sono più veloce non mi ricordo Sì sì sei più veloce a meno che non sia scarf Eh io c'è pure che sia scarf Non dai non penso che ce l'abbia doppio scarf dai Io sono sicura che ce l'abbia Vabbè vai Ok morto Mentre Ok Come sacrificare un mostro random Vabbè Adesso ti metterà probabilmente congur A fare knockout No niente Nien ciao Il perché io c'è pure di questa scelta Eh sarà scarf Ma tant'altro che non ti può colpire Vabbè fai sulla gioia Se mi colpisce Eh non ti shot di sto nello Che c'è là knockoff? Questo mi ha fatto Mi ha fatto Ah mi sa sì Che è là knockoff Metto whizzing Vabbè fai la giù E se più no se mi short No mi voglio tenere Gengar Perché se me la short sono messa male ecco Per me è meglio che mette venusauro comunque Sì ho whizzing o venusauro Allora meglio venusauro Sì dai venusauro è meglio dai Esatto Mamma mia che cos'è No no E cioè spendo Vabbè vabbè con la mega aumenti la tua Vado di gigadrain o sintesi Sintesi meglio Sicuri? Sì Sì Non mi fa critical hit Oddio è poco Gigadrain avrà Eh sì gigadrain Sicuri? Ma che devo shortare? Io spero che missi No no un altro sintesi dopo gigadrain Ok ok meno male Ok È vivo Farò un mega corno Metti whizzing prima Sì Non glielo posso bruciare Però glielo posso Adesso che non c'è più inferno È comunque debole alla scottura Ah no però No no c'è Guts Slagg bongo Spamma Willu No 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 perché c'è Guts E poi siamo nei guai visto che è scarfato Meglio a Fireblast No L'ho shotto subito No perché fra Perché speravo Vabbè me l'ho shotto Speravo che smucciassi Pogliamo avvelenare La gente Ok via Questo creava problemi Adesso non c'è più Adesso è morto Regà ma whizzing fa puzzetti a random Sì 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 Quanto avanti ne fa? Ne fa uno Due Tre Quattro Cinque Siete Siete Otto La volta Will o'Wisp Aspetta Non è che ha substitute No Non sento strano Non credo Non ci arribe il ballone Se c'ha substitute Ok Questo qui secondo me È disperato Non so come killarmelo Quindi dice Guarda andiamo a un terra che è una morte Vai Fai pain split Adesso farò sto niente Ok No meglio Grazie E ora? Vabbè Non barnarlo Grazie E no Però ogni mossa che ho Rischia di dargli uno status Meglio mettere meno Tentacrull che così se mi succhia la vita Se la prende in quel posto Esatto Metti Tentacrull Vai Non c'è la knockoff No No Ha knockoffato il black sludge Perché altro Quindi è inutile Di chi vada adesso Di sicure che con ganker Di ganker Per me è meglio andare Non ha sucker punch Non mi ricordo se ha sucker punch No Ma che sucker punch? Cioè ho mai tutti Come si chiama I fighting Prima hanno sucker punch Secondo me è meglio Con un sauro Perché No L'ha shotty con sludge No sludge wave è È più forte Sì Sì Quindi Shottato Shpros Esatto Ok poi Adesso chi metterà Sicuramente Ganker ha fatto la seconda Comparsa consecutiva Ebbè in effetti Tra ghost e poison Ho vinto Ho vinto Ok La prima l'abbiamo vinta Siamo stati fortunati Perché avevamo Contro un mono fighting E adesso Cerchiamo la seconda Oh Un mono stile Raga Io l'ho battuto Il mio mono stile Ma il mio è fatto meglio Il mio Cioè lucario È debolissimo A gang Ma che debolissima A gang Che già Shadow sneak Quel coso È uguale Lo fai fuori Prima di tutti Shadows E' Inutile In seconda A colpa bruciata No Io inizierei Sì 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 A colpa bruciata Oh Buono Certo Fai scaldo Fai scaldo Ma io scaldarlo prima Ma mettere l Come si chiama No non lo brucio Lo sapevo Vabbè un altro Un altro lo scaldo Ma esplode Ma che esplode Fai protect perché esplode Ma che pro Non esplode Vedi sto pezzo di merda Rappi spin Tanto è questa La liga Per me non esplode Se lo switcha Se lo tiene Esatto No 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 Vabbè In serio Non è un problema No Sword dancer Magari pure Nero Vabbè C'avrà extreme speed Guarda che c'è Che c'è Che c'è Che c'è E ragazzi E se è quello speciale Eh no Ragazzi Spiccio Fagli scaldi E poi se è speciale Debolissimo a cosa A Tentacor E dai brucia Tannazione Ragazzi Tra E dai Adesso ti mette wheezing Che Che wheezing E che fa Non è che può fa tanto Fa extreme speed Guardalo Ma mi ha spread wheezing No Metti ganger Metti ganger E' meglio che tu metta ganger Perché farà Extreme speed Ok Focus compact Focus blast Ragazzi Lo shotta con le light screen Sì Sì A meno che non ci abbia Barafano Ok Grazie 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 Superman Ok Che mette Che tu è Superman Brownsong muore Agirable No no Sciograble muore Gli sono finiti gli screen Sì Ok ok Allora muore Ok Ok Esplosso Grazie Bello Spalte Bravo bravo Mui mette Cosco Ok Esplosso Eh vabbè Facgli focus blast Tenta crue No no Focus blast Tanto per Esplosso Cosco Eh non muore Vabbè però Non è morto Non muore Non mori Eh Ma ti parevo Scrot Ma se metti toxic Aspetta toxic Croc è Purtroppo Non ti impagno C'è no 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 Drapion Heartquake Drapion Eh Drapion Drapion Sì Meglio Drapion Regai In questo episodio toxic Croc ancora non ha fatto Rosa comparsa C'è no C'è no Non manco nei miei Io ne ho Esplosso Mi mette per forza Scaramory E io ho il mio bellissimo Utilissimo No ma Questa è la Mega Ah la Mega Sì Quindi meglio mettere Weezing Così lo bruciamo Questa è la Mega Yes Sì Super Wow Ma perché Adesso Weezing vince da solo Mi sai Vabbè fai Willowhees Parandom Però Ma posso pure fare Blast A sto punto Sì Sì vai Voglio che esploda subito Ok Meno Quattro Che cazzo C'è quattro Dai Stallo fuso Bruce Ah miss No Il miss non ci vuole Vabbè fagli Willowhees Fagli Willowhees Questo schermo Perché comunque sta Anche questa Eh no Non è Chasbet Ok Adesso fai Fai Pain Split Pain Split E poi gli fai Volevo mettere Tentacruel No 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 Fa che pensi E sai che ti dico Mi stai bruciato Fire Blast Fire Blast Grazie Ma che shot Che non ha shotato neanche Shizor Vedi Edwitt che io Ma non mi volevo mettere Tra Vabbè lo metto dopo Tantina di Fire Blast Ok ho vinto Vabbè Vabbè Drapio No si chiama Drapio No Toxicroak Non vedrà mai la luce del sole Eh Forse Sté Ce la farà vedere Sì sì quindi Adesso diamo la linea a Sté Ok ragazzi Le nostre due lotte per uno Le abbiamo fatte Per la prossima settimana Vi invitiamo a consigliarci Un Pokémon Per il Monotype volante Abbiamo deciso Che il prossimo tipo Sarà il volante Giusto ragazzi? Esatto Quindi consigliateci Nei commenti Tanti bei Pokémon volanti E Niente quindi Tanti uccelli No Vabbè Io do io dai Facciamo una cosa veloce Perché Darklag Prima è proprio Anche crashato Quindi Da me Da Aizen E da Dark È tutto E al prossimo Pokémon Saturday Night Ciao Ciao a tutti Bella